Siamo al voto disciplina, dopo questa partita molto intensa, avete corso tantissimo tutti e due. Da chi cominciamo? E' uguale. Dario? No, per me sono stati molto corretti. Voto 9, cioè qualche roba di campo e basta. Rimane tutto nel limite. Bene, quindi diciamo siete contenti, un voto 9 che ci sta tutto. Da parte vostra? Io sono stati comunque... Si sono comportati bene, il comportamento... Ecco, è questo quello che conta, almeno noi ci teniamo molto al fair play. Bene, allora ragazzi vi faccio una foto insieme, che vi date la mano così magari rimane perfetto.